Ciao e benvenuto in Camperis! Nel video di oggi vediamo un magnifico semintegrale per quattro persone, il Cartago C-Tourer T-145H. Il Cartago C-Tourer T-145H è alto 2,89 m, largo 2,27 m e lungo 6,92 m. Questo veicolo è perfetto per te se cerchi un semintegrale di prestigio, capace di coniugare ottime doti stradali, stile, eleganza e tecnica costruttiva di alto livello. Vediamo le principali caratteristiche di questo veicolo. Dinetti in grado di ospitare fino a 5 persone, cucinadelle con ampio frigo da 160 litri, bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare, un letto trasversale in coda, un letto basculante matrimoniale nella zona giorno e tanto spazio per lo stivaggio, sia nell'abitacolo che nel baule posteriore. Prima di continuare con una descrizione più dettagliata, non dimenticate di seguirci sui nostri profili social per rimanere aggiornato con tutte le ultime novità del mondo camperis. Da diversi anni il super leggero e super solido C-Tourer è un modello di successo e si inserisce nella fascia premium del mercato occupando la classe da 3,5 tonnellate in un modo del tutto speciale. Nonostante il peso concorrenziale, è dotato della consueta tecnologia top della cellula cartago, dell'innovativa tecnologia del doppio pavimento e del telaio ribassato alco. La cabina di guida è perfettamente integrata nella zona abitativa e garantisce così un piacevole effetto salotto. In particolare puoi trovare una dinetta accogliente luminosa con i due sedili anteriori girevoli, un ampio tavolo rotabile e panca contrapposta che consentono di riunire in dinette anche 5 persone. Puoi trovare poi un televisore a scomparsa e per lo stivaggio sono presenti alcuni pensili sopra la dinette, una cassa panca utilizzabile interamente ed ampie botole nel doppio pavimento. Nella zona giorno puoi trovare poi un letto basculante matrimoniale elettrico che offre un eccellente comfort di riposo. Il letto, in posizione notte, riduce la vivibilità della zona giorno ma allo stesso tempo lascia libera l'uscita. La cucina è ad elle e si trova di fronte alla porta di uscita. È composta da tre fuochi con copertura in vetro divisa, un lavandino con coprilavello multifunzionale, pensili e ampi cassetti a chiusura centralizzata per le stoviglie, con porta posate, divisori interni e pattumiera integrata. Di fianco ai fornelli è presente un frigorifero da 160 litri con scomparto freezer separato. Vc e doccia sono collocati in un unico vano, nella parte centrale del veicolo. Il bagno presenta uno bloc che rende l'ambiente luminoso e arieggiato e offre pensili e vani per lo stivaggio con ante a specchio, porta sapone sospeso, lavandino con ampio piano di appoggio ed un grande specchio. L'ampia dozza circolare è separabile tramite una porta scorrevole e la doccetta è regolabile in altezza su una barra cromata. Nella parte posteriore questo veicolo offre un ampio letto matrimoniale trasversale per due persone, accessibile tramite due grandi gradini. Per lo stivaggio puoi trovare un armadio a tutta altezza di fianco al frigo, una corona di pensili sopra il letto ed ulteriori vani armadi nella base del letto. Il veicolo offre molto spazio per lo stivaggio anche nel baule posteriore, isolato e riscaldato, utilizzabile per stivare tutto ciò che ti è più utile in totale sicurezza, grazie ai binari di ancoraggio. È possibile accedervi grazie a due sportelloni, di cui uno molto ampio e ribassato, per caricare con facilità anche attrezzature più ingombranti, come per esempio uno scooter. Ulteriore spazio per lo stivaggio è offerto da vani nel doppio pavimento, accessibili dall'interno e dall'esterno, anche con possibilità di carico passante. Il veicolo è coibentato internamente anche per l'uso invernale e la potente stufatruma Combi 6 consente un utilizzo ottimale anche ai climi più freddi. Il doppio pavimento consente di unificare la temperatura nel camper in maniera eccezionale, mantenendo il pavimento sempre caldo. Inoltre l'alluminio sul lato interno della parete garantisce una distribuzione del calore rapida e uniforme. Internamente il mobilio viene fissato con tecnica di doppio collegamento Durafix e gli interni presentano lo stile Epic Bicolor, con superfici del mobilio in estetica bicolore con decorazione frassino brillante e frontali in avoria specchio con applicazioni micromate. Esternamente il look decisamente sportivo della linea C-Tourer T beneficia di una verniciatura total white, di una grafica laterale contraddistinta da una Maxi C pensata per richiamare il logo Cartago e di un innovativo design anteriore con cupolino in vetro resina, a doppio guscio coibentato. Le pareti laterali sono in alluminio per ottimizzare il peso del veicolo e per fornirgli un design automobilistico garantendo una stabilità del colore nel tempo. Il veicolo presenta il telaio Fiat ribassato Alcol Light, che riduce il peso del veicolo offrendo un comfort di guida pari a quello di un'auto. Il tetto e sottoscocca sono rivestiti in vetro resina per evitare danni da grandi e ne pietrisco. La cellula è assolutamente priva di legno con espanso rigido RTM idrorepellente e nucleo isolante. Per visionare la scheda completa di questo veicolo e per conoscerne tutti gli accessori e tutte le caratteristiche tecniche, clicca sul link che trovi nel post di Facebook oppure nell'info box di questo video su YouTube. Se desideri sapere quali sono gli altri modelli disponibili sui nostri piazzali, visita il sito www.camperis.it oppure per vedere, toccare e provare in prima persona i nostri veicoli, vieni nelle nostre sedi Camperis dove essere assistito da specialisti, sempre pronti a consigliarti la soluzione più adatta a te. Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!